Buongiorno e bentornate nello shop Moda Essenziale. Oggi arrivo da voi con una bellissima novità, una capsule collection che già da qualche ora sta facendo impazzire chissà che è uscita. Lei è iscritta alla newsletter, se non siete iscritte vi consiglio di farlo perché da questo momento fino alla fine di aprile ne arriveranno di newsletter con delle novità interessanti, quindi il mio consiglio ovviamente è di iscrivervi così avete accesso in anteprima a tutte le informazioni. Detto questo che cosa vi presento oggi? Vi presento quella che amichevolmente dietro le quinte è stata rinominata la capsule collection office, una linea di accessori in pelle realizzati come sempre dai nostri artigiani toscani pensata per vestire di stile e di moda essenziale anche il quotidiano, anche al lavoro e in viaggio. Si tratta di una linea che risponde ad un bisogno che avevo io e che avete anche voi perché più di una volta mi è stato chiesto di introdurre delle borse portacomputer, portatablet, portacellulare che fossero in linea con il nostro stile. Alcuni di voi sanno che ci stavamo lavorando nell'ombra, altri avranno questa sorpresa oggi. La linea oggi è disponibile ed è disponibile già in due colori sullo shop. Nel video di oggi vi farò vedere il colore blu nevi, tutti i quattro prodotti che vi mostrerò oggi sono disponibili anche in nero, con le stesse identiche caratteristiche direttamente nello shop. Partirei subito dal prodotto che mi è stato chiesto dal momento in cui ho lanciato il brand, perché puntualmente qualsiasi borse io stia presentando io riceverò la domanda fatidica. Ma il computer ci entra in questa borsa? Io vi ho sempre risposto sì o no a seconda del caso, ma vi ho anche sempre detto attenzione a dove mettete il computer, perché deve essere protetto. L'ideale sarebbe avere delle borse apposite. Da oggi posso dirvi che in modo essenziale ha le borse apposite. In questo momento vi sto mostrando, sto tenendo in mano la versione in pelle blu, 13 pollici, quindi perfetta per un computer da 13 pollici, identica ma leggermente più grande, c'è anche per un 15 pollici, che è questa, ha esattamente le stesse caratteristiche, quindi evito di occupare tutto lo schermo facendovele vedere, però appunto sono esattamente fatte allo stesso modo anche all'interno, stessi pellami, stesse chiusure, stessa tracolla rimovibile, quindi non hanno nulla di diverso se non appunto la dimensione. Come vi dicevo, vi mostrerò oggi in questo video tutti i prodotti blu, ci sarà poi un passaggio al volo montato con la shopper nera per farvi vedere un'idea di abbinamento, tutti i prodotti sono disponibili anche in nero, e sono tutti realizzati con lo stesso pellame che è una pelle dollaro, quindi la pelle con la grana grossa, la stessa che in questo momento abbiamo anche per le shopper che trovate sul sito, e per alcune cinture che sono disponibili in promozione sempre nello shop, quindi una pelle con grana grossa, molto profumata, io mi sto inebriando, considerate che ho qui i quattro prodotti blu, lì ho quelli neri, ovviamente tutta la collezione intorno a me sono proprio inebriata da questo profumo di pelle meraviglioso, è una pelle resistente, morbida e profumata, pensata proprio anche per sopportare eventuali urti, graffi, sono prodotti pensati per un utilizzo quotidiano, in viaggio, in treno, in aereo, lo sappiamo come sono le nostre giornate, loro sono state pensate esattamente per questo. la borsa portapiccina, entrambe le versioni ha due manici in pelle fissi, è una tracolla rimovibile, che ovviamente si può agganciare come sempre con dei ganci color argentati, la tracolla è più spessa di quella delle nostre borse tradizionali, proprio perché deve comunque sopportare un peso differente, un tipo di prodotto differente, è in tessuto con inserti come sempre in pelle abbinata al colore della borsa, ed è regolabile, quindi la potete accorciare o allungare a seconda delle vostre esigenze. Per aprire la borsa abbiamo due cursori, quindi anche qua molto pratico, come apertura è comoda, e all'interno c'è uno scomparto unico, ovviamente imbottito come tutti gli interni di prodotti di questa collezione, foderato in tessuto nero. Una particolarità di questo modello e del modello da 15 pollici è che hanno all'interno una tasca portacellulare in pelle abbinata al colore esterno della pelle e un piccolo portacarte integrato in cui potete infilare bigliettini da visita, carte di credito, carte di ogni tipo già a disposizione, quindi non rischiate neanche di perderlo perché è proprio cucito all'interno della fodera. La metalleria è color argento, sono delle borse bellissime che ovviamente nascono per essere utilizzate come portadispositivi elettronici, nulla vi vieta di usarle come cartelle nel quotidiano anche per documenti, cartelline, altri tipi di necessità che potete avere nell'arco della vostra giornata sul lavoro, in viaggio e nel tempo libero. Un altro accessorio richiestissimo è il porta tablet e anche lui ovviamente arriva in abbinamento, quindi realizzato con lo stesso identico pellame blu delle borse porta pc e è disponibile anche in nero. Anche in questo caso pelle dollaro, quindi la stessa pelle martellata, anche in questo caso apertura con doppio cursore e fodera interna di colore nero. È un tessuto anche leggermente impermeabile, quindi se si rompe una penna, se succede un piccolo incidente, si asciuga e si lava con grande semplicità. Anche qui interno foderato liscio. Una particolarità di questo modello che ovviamente può essere utile per il tablet, per dei documenti, per qualsiasi cosa vi serve, ma anche per i lettori di ebook, per esempio in viaggio, che uno non sa mai dove metterli, è che ha, volendo, la sua tracolla che è esattamente uguale a quella della borsa più grande, quindi porta computer, ed è un dettaglio che la rende molto pratica da portare in giro in viaggio, ma che la rende anche una borsa da utilizzare nel quotidiano, se ce l'avete sotto mano e magari avete bisogno di qualcosa di piccolo, sottile, compatto, in cui infilare le vostre cose regolari, non necessariamente elettroniche, e uscire velocemente senza pensarci troppo. Come sempre cerchiamo di creare sempre articoli, quanto più versatili possibile, anche quando, come in questo caso, nascono con uno scopo preciso. Il fatto che abbiano una funzionalità così specifica non significa che si usano solo per quello, anche per quello, sono più sicuri per i nostri dispositivi, che ricordo vanno protetti, ma poi sono perfetti anche per un utilizzo quotidiano, al di fuori dell'utilizzo lavorativo. L'ultimo prodotto che vi presento oggi, anche lui disponibile in questo blu nevi, quindi un blu scuro, più scuro della shopper, adesso parliamo anche di loro, e in nero, è il porta smartphone, che in realtà è un porta qualsiasi cosa, di spiego, nasce come porta telefonino, quindi è perfetto per quello utilizzo, anche lui ha il doppio cursore, la tasca interna imbottita, in questo momento c'è la carta, quindi questa tasca unica, foderata in nero, con la sua bella imbottitura. A differenza degli altri prodotti, non ha la tracolla spessa in tessuto e pelle, ma ha un gancino, che si può togliere, che vi consente di portarlo al polso, ma anche di agganciarlo ad un'altra borsa. Vi faccio scorrere l'immagine della versione nera, abbinata alla shopper nera, perché il materiale ovviamente è lo stesso, è lo stesso tipo di pelle, dollaro, pelle martellata, in nero chiaramente, anche se sono partite di pelle differenti, la differenza non si vede, il blu invece è un blu diverso, e lo vedrete poi anche lui in sovraimpressione, il blu della shopper è un pochino più chiaro, rispetto al blu nevi di questi accessori, stanno bene insieme, ma se volete l'abbinamento perfetto, il colore non è esattamente lo stesso. Questo prodotto qui è fantastico per il telefono, per un'uscita veloce, in cui dovete infilare le chiavi di casa, le chiavette usb, qualsiasi cosa, ma è fantastico anche per gli hard disk, quelli più piccoli, che vanno anche loro protetti, non lo sapevo, indovinate un po' come l'ho scoperto, perdendo tutti i miei materiali, perché ovviamente ha subito un urto, e si è un po' cancellato quello che c'era all'interno, quindi mi raccomando, proteggete sempre i vostri dispositivi, questo è veramente un prodottino fantastico, da utilizzare in mille modi diversi, volendo potete anche agganciarla a una cintura, se vi piace questo tipo di utilizzo, perché questo gancio veramente si presta, a tutti i tipi di abbinamento, le quattro proposte di questa linea, sia nel colore blu che nel colore nero, vi aspettano sul sito, vi confermo quindi, che l'abbinamento tra i vari neri è perfetto, hanno anche tutti la metalleria argentata, come le shopper, quindi si abbinano veramente in modo perfetto, e sembrano effettivamente nati insieme, sono nati comunque nello stesso borsettificio, a distanza di qualche mese, i due blu, sono due blu effettivamente diversi, nelle stories, nei prossimi giorni, continuerò a farveli vedere anche, come sempre con le varie differenze di luce naturale, luce artificiale, per mostrarvi la differenza, che comunque si vede ad occhio nudo, sono due blu diversi, quindi nell'armonia del blu funzionano, se volete l'abbinamento perfetto, non funziona, una cosa fantastica che potete fare, acquistando uno o più di questi prodotti, è proprio modificarli, quindi togliere il gancetto dal piccolo, e metterlo magari sulla grande, attaccare il gancetto alla shopper, sostituire la tracolla della shopper, con quella in nylon, un po' più spessa, con gli inserti in pelle, della borsa porta pc, potete giocare in mille modi diversi, è una collezione piccola, in quantità anche limitate, perché è un prodotto nuovo per noi, quindi non partiamo a 8000, visto che non c'è alcun bisogno di farlo, io voglio sempre anche limitare, gli sprechi di prodotto, quindi produrre mille, quando poi magari su una richiesta più piccola, non ha senso, si fa sempre in tempo ad integrare, ad aggiungere in un secondo momento, però sappiate che per il momento, le quantità sono volutamente limitate, e che sono prodotti che ovviamente trovate, nel nostro shop, a partire da qualche ora fa, ma adesso li trovate sicuramente, le borse porta pc, nella sezione borse, le due custodie, porta tablet, porta tablet, e porta smartphone, sono invece nella sezione accessori, sono sicura che la linea office, vi piacerà quanto è piaciuto a me svilupparla, è stato molto divertente, anche un po' nuovo, e vi ricordo ovviamente, che per avere in anticipo, tutte le informazioni sui lanci, c'è nell'info box, il link alla newsletter, è una newsletter mensile, che nel mese di febbraio, arriverà due volte, una è già arrivata, l'altra arriverà a fine mese, ma che in linea di massima, arriva una volta al mese, con sconti, novità, anteprime, spoiler, è un po' una coccola, dedicata proprio, a chi vuole ricevere, questa bella sorpresa, nella sua casella di mail, i prodotti vi aspettano, nello shop, io sono a disposizione, per le domande, vi auguro come sempre, una bellissima giornata, e vi invito come sempre, a rendere speciale il quotidiano, che è un po' poi, il motivo per cui esiste questa collezione, è facile, è divertente creare, prodotti con gli strass, le paillettes, modelli gioiello, per l'evento speciale, ma gli eventi speciali, nella vita di tutte noi, sono molto pochi, rispetto agli eventi ordinari, perché non rendiamo speciale, anche l'ordinario, è bello, la vita di tutti i giorni, può essere bella, può essere speciale, e merita tutta la nostra attenzione, con questa perla di saggezza, vi auguro una splendida giornata, ordinaria o no, e ci vediamo presto, da queste parti.